si è aperta subito quindi la sedia era da incollare ciao oggi mi piacerebbe condividere con te un metodo come capire se le sedie in legno tipo questa qua siano stabili o meno quindi se hai delle sedie in legno magari non ci hai mai fatto caso se sono stabili sono robuste e sicure con questo video scoprirai potresti provare tu stesso se le tue sedie sono belle e sicure oppure hanno bisogno di essere magari sistemate perché sono instabili e sono un po ballerina allora per capire come una sedia diciamo è stabile o meno bisogna provare a mettere una mano nella parte diciamo della seduta l'altra mano nella parte dello schienale e fare con la mano nella seduta tenerla ferma e l'altra mano nella schienale muoverla avanti indietro in questo modo se lo schienale della sedia muove e non è fermo allora la sedia sicuramente ha bisogno di essere incollata allora non bisogna fare questo metodo che magari mettere solamente la mano nella schienale e muoverla così perché così sembra ovviamente stabile perché tu muovi solamente lo schienale e non teni ferma la seduta invece tenendo ferma la sparta della seduta e provare a muovere lo schienale come in questo modo si vede di questa bisogno di essere incollata anche davanti è anche più semplice se hai diciamo solamente un traverso si capisce meglio basta muovere le gambe davanti in questo modo e allora come come vedi si scollano quindi per incollare per per scollarla ovviamente poi bisogna farlo fare a un professionista però basterebbe un manzuolo di gomma per far vedere che si apre in due secondi si è aperta subito quindi la sedia era da incollare come hai potuto vedere se vuoi provarle sulle tue sedi di casa se hai le sedie in legno provalo e facci sapere se sono stabili o magari hanno bisogno di essere sistemate e poi dopo nel caso ci puoi contattare e vediamo come possiamo sistemarle